E come avete capito questo incontro ci è stato ispirato da una persona molto importante, questa persona è Giordano Bruno e oggi non è, come sempre le date di Parole Guerriere non sono mai casuali, il 17 febbraio del 1600 e questa persona così brillante, così geniale è stata, bisogna fare i conti con la realtà, arsa viva. Ha pochi passi da qui tra l'altro, al campo dei fiori. Allora sicuramente Giordano Bruno non è l'unico martire, non è l'unico paladino della libertà di pensiero e del coraggio della parola, però attraverso di lui vogliamo ricordare tutte quelle donne, tante donne e tanti uomini che sono stati fatti fuori dalla società per il loro coraggio, per le loro parole, quelle sì, veramente guerriere. Oggi nell'età della tecnica che viviamo usiamo modi più raffinati per farci fuori, però questa esperienza di Giordano Bruno non è da confinare a un mondo passato che non esiste più, ci facciamo fuori continuamente. E la cosa incredibile è che siamo tutti sia carnefici che vittima di questo modus operandi. Per avere ragioni questa sera questo incontro non sarà su Giordano Bruno e sul suo pensiero che è molto complesso, ma ci serve da scaturigine perché l'idea che vogliamo esplorare è quella della disobbedienza. Ora ho pensato molto a come ricordare Giordano Bruno, magari avrò avuto un'idea banale, ma ho pensato che per paradosso il paladino dell'espressione del coraggio della parola doveva essere ricordato con un momento di silenzio. Un momento di silenzio che verrà interrotto, se lo vorremmo creare tutti insieme, basterà una persona di voi a non volerlo creare e non ci sarà questo silenzio. Verrà interrotto da una voce femminile, di una donna, una donna importante, meravigliosa, che è qui con noi, che è Donatella Scatena. Ti prego Donatella di raggiungermi così almeno non siamo soli. Donatella è una donna, è un architetto, è un professore, è un docento universitario, è una madre, tante cose. Ha avuto la fortuna o il destino, direbbe qualcuno, dipende da come si vede, di stare a fianco a una persona altrettanto speciale, importante. Una persona che oggi vogliamo ricordare, una persona che ha fatto la storia della televisione italiana e non solo, ma lo ricordiamo oggi per una serie di sincronicità, vero? Lo ricordiamo oggi perché è stato soprattutto anche uno studioso profondo di Giordano Bruno e del suo pensiero, che sicuramente l'avrà illuminato. Questa persona che vogliamo ricordare oggi è questa persona qui, Gabriele Laporta. Allora, se volete possiamo intonarci prima di iniziare i nostri lavori con un minuto di silenzio dedicato a quest'altra persona qui, perché la storia la fanno le persone. E quindi vi consiglio schiena dritta, piedi a terra, un bel respiro e vi faccio un invito, una provocazione. Non vi chiedo il coraggio di Giordano Bruno di affrontare il ruolo, ma vi chiedo, se volete, di affrontare questo minuto di silenzio ad occhi chiusi, per abbandonare il controllo sull'altro. Perché tante volte il tagliarci fuori, il tagliare fuori l'altro, fino ad arrivare ad ucciderlo, si basa su una questione, sulla paura, la paura dell'ascolto, dell'ascoltarsi. Giusto? La paura dell'ascolto. Perché? Perché noi pensiamo tutti di avere la verità in tasca. Diciamocelo, ognuno di noi vede il mondo in un modo e pensa che quel modo sia corretto. È difficile confrontarsi davvero. Allora vi prego di fare qualche momento di silenzio ad occhi chiusi, poi sarà interrotto da un passo che leggerà Donatella di Gabriele Laporta a Bruno. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora Bruno continua, la coscienza del reale è assimilabile diciamo così con un atteggiamento interiore di distacco ispirato, capisco senza capire e nello stesso tempo comprendo che per la Chiesa tutto questo è pericoloso, per la Chiesa come forza temporale sì, per la Chiesa come entità spirituale mi esprimo così per farvi capire, assolutamente no. No, in questo preciso momento un cielo di stelle si affaccia nella testa di Clemente, non è una notte stellata ma somiglia ad essa, è molto di più, è la parte intima dell'universo, intangibile, incorruttibile, per un istante avverte una musica inespressa, poi rompe un tuono, una risata sardonica che sprigiona dalla parte più animale e grottesca dell'io del Papa. E' troppo legato al mondo, alla sua funzione che ricopre sulla Terra come capo della Chiesa di Roma per poter continuare su questa vibrazione. Quindi la notte stellata sparisce. E' tratto da Giordano Bruno, vita, opere e opere di un pericoloso maestro del pensiero di Gabriele Laporta. Grazie. Applausi Grazie Grazie.